L'idea ricalca l'Expo di Milano, ovvero quella di offrire un'esposizione di lungo termine, dove mettere in mostra le tipicità abruzzesi, toccando tutti i territori punto per punto. L'atmosfera dovrebbe essere quella dell'Expo, però con in più la vendita. Noi in questi musei creeremo in questi stand il posto dove si espone, il posto dove si promuove, il posto dove si fa laboratorio didattico e il posto dove si vende. E chi verrà a gestire questi stand sarà lui che potrà vendere i suoi prodotti e promuovere direttamente se stesso. Ovviamente sotto un brand unificato, che è un grande sistema di certificazione di qualità, che intende riprendere l'idea dell'Abruzzo 100%, del made in Abruzzo. Al concetto di esposizione poi si aggiunge quello delle cosiddette porte, luoghi pensati per creare un varco verso nuovi mercati, mercati di riferimento analizzati e giudicati apprensibili per le tipicità abruzzesi. Si tratta di tre assi, Roma, la macro-regione ionica e gli abruzzesi nel mondo. Per ognuno di questi target è stata pensata una strategia apposita. Pescara intanto apre la porta nel Museo del Gusto nella storica Via delle Caserme. Queste porte, di cui noi ce ne siamo in questo momento, dentro una di queste, che è il Museo delle Genti d'Abruzzo, che è una porta considerata verso i Balcani, è invece in realizzazione a Carzoli, proprio sull'uscita dell'autostrada di Carzoli, e quella è la porta su Roma, sulla direttrice tirreno-atriatica, che è la direttrice principale di flusso sia commerciale sia turistico della nostra regione. Poi ci saranno altre due porte che però non ancora sono state identificate, che dovrebbero essere una a sud, una a nord della regione.